Marca, con il numero 5 Antonio Letice, con il numero 6 Gianluca Tristaldi, con il numero 7 Giuseppe Truglio, con il numero 8 Fabio Marletta, Eschitaleria, Cigliatolo, Leanza, Dubitrasco, Marocco, Città di Messina, con il numero 1 Agostino Di Dio, con il numero 2 Cipriando Malvoschi, con il numero 3 Carmelo Viscuso, con il numero 17 Santi Mangano, con il numero 18 Liborio Bongiovanni, allenatore signor Pasquale Rando. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.